Allora abbiamo fatto 1, 2, 3, ok? Quindi arriva, scivolo, 1, 2, 3, ok? E va, andiamo lì, sta sempre dietro questa linea, quindi torniamo, ok? Quindi scivolo, 1, 2, 3, ok? Meglio ancora sarebbe, sono qua, su qua… sarebbe ok? che sono tra il cuore e il dormito, scivono bene, mi sape che faccia l'amore ok, se sono proprio sul cuore, se sono qua, ma se sono vicino, menuto un po', ok, vai ok, guida lì, guarda, 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 guarda a casa, vai, se mi attaglio il tuo asunto punto, no, così, ok, qua volendo si può aggiungere il cuño a scopo in giro, ok, volendo, sarei Ok? 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 Il barro? Ok? Ok?